Ok, adesso dovreste anche sentirlo. Ah, si sta scaricando il 89%. Tenet? No, ten, dieci. Ok. Non si fa da controller. Pensavo che si facesse da... Mamma mia. Ah, ditemi se l'auto del gioco è troppo alto. Antonio! Antonio, sei tu! Annapurna. Sembra tipo... La Purga. Ah, no, no, tipo... Ah, ecco, Psyvern, che dicevi che c'era William Dafoe. Aveva ragione. C'è Dafoe. Ma no, ma che ansia che metti sto orologio. Che ti fa proprio 12 minuti, sta andando indietro il tempo. È proprio... Prima che dimentichi. Scusate, si è bloccato tutto, eh, però... Arriva subito, eh. Ok. Escrivete, moi. Volevo cambiare... Il ta... La categoria. Che siamo passati a 2 al minus. Si è un po'... Frizzato, ma... Ho risistemato. Ok. E' una cosa così ansiogine, in effetti, sì. Sì, ma... Veramente, ma... Un intro veramente bella, comunque. Nel senso, i 12 minuti che senti proprio... Cioè, non sono 12 minuti, ovviamente, sono meno, però... Già così senti... La pressione. Poi la musica. Bellissima. Scusate sempre. Ho abbassato leggermente che era forte. Soprastrava... Soprastrava la mia voce. Ah, ok. Ah, così proprio. C'è l'orologio in mezzo. Allora, guardiamo le opzioni. Allora, prima di tutto, no. 3.000... Cosa. No, aspetta. Ok. Quality. Ovviamente, high. Full screen. Ok. Sì. Io lascerei English, se va bene. Nel senso... Tanto penso che non sarà così... Difficile da... Da comprendere. Un po'. Un po' più luminoso, forse. Anche lì sì. Perché 59 Hertz? Ok. Santa Hertz. Scusami. Ah. Ok, si inizia veramente. Ditemi sempre che se anche l'audio è... Troppo elevato che... Lo aggiustiamo subito. Mamma mia. Ok, si va dalla tastiera. Pensavo si andasse... A cosa? Presto move. Ok. Prima a vedere. Siamo i vicini. Pronto? Oh. Oh, baby. Sorry neighbors. Ecco, quello che... Mi chiedo è... Se anche questa interazione... La prima interazione che dicono... Aver svegliato il bambino... Può portare delle conseguenze... Durante il gioco? È quello che... Mi intriga di questo qui... Di questi giochi fatti in questo modo. Ah, sì, il vaso. No, aspetta, aspetta. Mudo il corso del top of one of your inventors... Ah, ok. Ah. There we go. Now I just need to use them to get in. Now I just need to use them to get in. Ah, ok, ok. Scusami, scusa. Ah, giu... Ok, ok, ho capito. Ah, che forza! Quando metto il menu... Ehm, diventa tutto... Tipo cinepresa. Tipo come se qualcuno... Stasse registrando, no? Cosa stesse facendo questa persona. Ok. Ed ecco i nostri 12 minuti che iniziano. Usa il sasso, sì, 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 grazie. Scusami, eh, mamme ne frego di te. Ah, ma c'è... Ce c'è anche la... Oh, aiuto. Why? What's the occasion? I'll tell you of a dessert. All right, I'm ready to get wowed by this dessert. Just give me one second. Vai, donna! Va a preparare la cena! No. Pensiamo sì. Ecco, vedi? Ecco, uomo, alzati, vai qualcosa. L'avevi a te. Ma c'è un bel knife. Ah, l'ho preso, ok. Radio, ma c'è di la radio. Un po' di musica, c'è anche qui. Mag, prendi un po' la tazza e... Ah, l'abbiamo presa. Ah, ecco, vedi. Guarda, faccio la persona bella. Ah, c'è un'acqua adesso. Pensavo che non avasse. Scusa, Thunder. Ah, no, Thunder, ok. Ce l'avevi col fiume. Pensavo ce l'avessi confinata. Ok, allora, per finire il tavolo serve. Che cacchio serve per finire? No, 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 codici strani, no, eh. Questa door cosa ha? Ma cosa mi importa questa? Ok, tu... Ah, adesso non si sentono i vicini. Oh, c'è il phone. E se io uso il phone? E se continuo a chiamare, cosa succede? Facciamo gli strozzi. Emergency services? Ah, sorry. I hit redale by accident. Sir, this number is reserved for emergencies. Making false emergency calls is a misdemeanor. Don't call again and let this in emergency. Va bene, basta, basta, non chiamiamoli. Non facciamo i bambini. Andiamo. Ah, qui c'è la senza da letto, ok. Dove vai, uomo? Quinto. Armchair. Armchair. Ok, c'è un po' di roba di tutte e due. Non c'è. Metto il coltello. Non c'è un po' di roba di roba. Ha, 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 ha. Bagno tutti i vestiti. Non c'è un po' di roba. Non, metto una. Non c'è un po' di roba. Vabbè, flower. It's our song. They have to play it. Qu'est ce qui ti l'a? Can't open that with just my hands. Cosa scusa, Psever, non ce l'hai già. Che cosa ho già? Mugnetto di venta. Ok. Oh, we've got to clean our closet. Oh. Holy, open up. I'll get it. Oh, no, ho chiamato troppo volte il numero d'emergenza, vuoi vedere. Ma, no, che coppio, ma... C'è il coltello? Ammazza. Now you, hands behind your back, please. Non c'ho provato. Ah, ce l'ho già. Jesus Christ. What? What the hell just happened? Ok. Ok, qui c'è una mag. Ehm... Ehm... Io direi di fare... altri tipi facciamo lo stesso cerchiamo di capire no? ma se sarà stato qualche cosa aspettate rubate la tazza i mean i could be persuaded maybe come on dance 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 ok 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 let's talk later clear sky radio 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 gaga radio bulu gotta get this fixed babe someone's gonna get hurt oh qui c'è un altro painting ma sta luce ok scusa eh mia moglie secondo me devo prendere il telefono è importante il telefono secondo me ok ok aspetta un attimo vediamo un po' la moglie adesso so c'è c'è ok ok c'è c'è ok c'è 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 luce d che c'è 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 p Magna, magna, oh, che buono! Vabbè, ho scoperto. E' per te un coppiaio. Ah, il mio coppiaio pure! Oh. Apri, apri. Proprio ciò che voleva... Ah! Ah... ...è il mio compito! Abbiamo un bambino! Wow! Ah, wow! So? Come se sentiteってる? Perché Dahlia? I wanted to nominatura per la tua madre. Ah, ma non even l'ai mai avuto. E quindi? Adesso è un obiettivo? no what if it's a boy if it's a boy then he won't be able to read that there's someone else's name on his onesie it's a nice surprise don't overthink it now you want to talk about the actual pregnancy? I uh wow wow I'm gonna be a dad I just uh I didn't exactly have a teacher no nobody knows how to do it and everyone knows what they do is lying but we'll figure it out yeah yeah we will look I'm I'll come up wait to 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 wait 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 can't get to that door I'm with the police turn her up oh for the spoon took it what? me? yes you hands behind your back let's go hold still aspetta perché non posso usare il telefono uso sto cacchio di telefono è vero Non puoi aiutare, solo tu e me Ok, guarda Wait, 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 wait What is it that we're being accused of? Don't handcuff me, we can't help Quiet, I'll deal with you in a minute You're making a mistake He can't help you, just you and me Tell me where the watch is and we all go our separate ways I'm telling you, I don't know about any watch Ok, let's just see You're making a mistake, this is No, 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 please Please, please, ok, ok, just stop, just stop, please I'll tell you, just don't, don't hurt him, please Please, please, is in her Oh, fuck, that was brutal Oh, God Don't worry You're okay You're okay You're okay You're okay Okay Hey there Ciao Scusami un attimo ma I didn't hear you come in Best night ever Guess who made dessert Let me know when you're in the mood Okay You already say that What? I don't know Wife, wife, wife You've been lying to me all this time What? About your past, about your father What? I don't know what you're talking about Well, what about your father's murder? What is this? My father died of a heart attack, asshole I don't want to talk about this Oh, yeah In the next few minutes, a cop is gonna knock on a door What are you talking about? The cop, he's gonna accuse you of killing your father What? My dad had a heart attack He's so crazy, dude Please don't open that door Come on It could be anyone This isn't No, I'm serious Please don't open that door It's important This isn't funny, babe Don't open the door Just trust me Okay I won't Oh, thank you I'm stuck in a time loop So, there's a cop And a time loop Yes, yes Jeez Ma forse è anche Il modo in cui I'll prove it Yeah, great, let's see Wow me Let's see Okay, I'm waiting Come faccio capire? Oh, the anticipation Wait What is it? Let's see Let's see Oh, you have a trim, you saw it Wow, yeah You're thirsty Seriously That's what you're going with Yeah, okay Something else Let's see If you can prove it I mean I see It'd be kind of cool The light switch In the bedroom Something's really wrong With the wiring One of us could get really hurt Yeah, no kidding You really got to fix that thing Any other suggestions? Let's see Excited to get my mind blown Oh, you're phone What about it? Yeah Nothing I guess Okay Good talk Ah, yes Let's see Come on I want to see a miracle Era sotto il tavolo No? Come on I want to see a miracle Just, 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 just Ma come faccio a video Cioè Oh, cacchio Signora Wait I want to see a miracle What is it? You know what? Forget it Great No, no, you Te lo voglio provare Ok Ok Ah, perché non posso scegliere Perché lei è incinta, figlio Sei incinta I can prove it Take your time Sounds like you've got all night Let's see What about the plastic candles? What about it? Not sure Cool Let's see Dove cacchio era? The wiring in the bedroom One light switch Dude What else? Let's see What about the chair? What about it? Yeah Uh Ok Police Open up Is that him? Oh Let's talk later Oh Oh That's him Isn't it? Come on I know you're home Open the door Maybe he'll go away This can't be happening What? I'm with the police Turn around please What? Me? Yes You Hands behind your back Let's go Hold still Emergency services I don't know I'm with the police I'm not going to I don't know I don't know I don't know I don't know Ok, ok, ok Ah, dov'è l'orologio, ok Allora Mag L'altra mag Switchiamo così non lo switcha lei Vai dalla moglie I'll prove it Yeah, great, let's see it, wow me Let's see Wait What is it? Let's see Ma non posso dirgli Come faccio a dirgli che è incinta Cosa devo schiacciare? Well Il piatto? The dessert I know you made my favorite I told you this morning I had something special planned Not exactly Nostradamus To guess I'd make your favorite Right, yeah Let's see Ok Ok, I'm waiting Wait What is it? Let's see Ok 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 C'è l'ho fatto C'è l'ho fatta All right Let me try and prove something else You know what Forget it Great Ah, ok Posso chiudere Hai ragione Aspetta Ok Giusto, giusto C'è scritto close Bravo Grazie Sì Adesso so come un'altra interazione Sì, ma Ah 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 Li posso andare da dietro Ad ammazzarlo Deve vedere il book Ok Oh, try me You're gonna make fun of me It's a book of meditations Yeah, it's not my thing Ok Ah, hai ragione Proviamo a vedere Se posso distruggere Non ho avuto classi Oh, hai ragione Con il colpello Non ci ho pensato E cosa ci metto qua? Ok Veloce Come si fa ad attivare la Aspetta Vado a mettere Le tazze No, no Non volevo mettere Proviamo così Ci nascondi della roba Per provare la prossima Ah Ok Ok Mettiamo le mag Ok Oh, 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 oh Lo sento che sta arrivando No Scherzavo È un po' un siogeno Su gioco Sì, sì Adesso mi Mi nascondo Nel frigorifero Nel frigorifero Buongiorno Nel coso per sentire Però intanto Voglio provare a vedere Cosa succede Se intanto apparecchio I'd rather he'd sit down I'd rather he'd sit down I don't know Ok, sento delle voce I'll get it I'll get it I'll get it Ma se lo uccido col coltello Perché la polizia non mi vuole ascoltare Help me Will you come help me? Well, who come help you? My prince So Someone is here I don't know This is a mistake Ah, ok Ecco cosa serve Ok, ho messo le chiavi Ok, ok Adesso Ok, chiude la porta Amico, mi stai Facendo male al sedo Please Just go I won't tell anyone Now you Hands behind your back, please Don't move Ok, aspetto Che si giri Ok, perfetto Ok Ok, aspettate Forse te cospe Ehi no, perché poi lui Hey there Wait, ah, what Hey Hey, babe What the fuck? Are you kidding me? Ok Prendi il coltellino No Ok Ok Questo è il dialogo che abbiamo già sentito prima Ok Adesso provo A non farlo entrare Ah Ok Quindi se io entro Mi nascondo subito La tizia Non chiede aiuto Quindi pensa Ok, ho capito Ecco perché Ho capito, ho capito, ho capito Allora Intanto faccio questa cosa qui Non so perché la faccio Ma Voglio rifarla Sì, la luce Ah ma Aspetta Di lì di non aprire Ok Si, si Devo aspettare il prossimo gruppo Ormai Avvio Però voglio vedere cosa succedeva Se non lo faccio entrare Non, non Wife Ah Che 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 Sì Qui Quo Ok, dìglielo questa roba qui Vai qui Qua E dìglielo che c'è Guarda, guarda, è chiaramente inopente Ma, io conosco che c'erano i bambini all'interno Ho proprio comprato Come potessi sapere? Dio Sì Scusate, io conosco che hai bisogno di più Scusate 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 In bagno, non ci sono mai stato, voglio vedere cosa c'è Ok 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 Prova a mettere il lock Ok, apro Il telefono Vado a prendere il telefono E dopo provo a fare l'altro lock No, apri la porta No, apri la porta Apri questa cacchio di porta Esci fuori Appena sento quello lì Ok, aspetta aiuto Ok C'è Mentre Hai Siamo Quassi Vieni Quassi 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 Vieni Quassi 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 Non ho scoperto. Deve essere qui in 15 minuti. 15 minuti? Non puoi aspettare 15 minuti. Cosa faremo? Sì, i uffici saranno qui presto. Sì, vanno a fare in un paese sicuro. Questo non può succedere. Abra la porta ora o io lo so. Cosa facciamo? Puoi farlo? Puoi farlo? Cosa sta facendo? Ma si stava suggerendo? Non lo posso uccidere. Ok. Ok, ok, provo quello che mi hai detto. Ok, chiamiamo adesso subito. Questa è la polizia. Sambia! 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 E adesso... Ehm... Ehm... I... Li voglio dire della giornata che si ripete. Cosa mi... Voglio capire. Eh, è stavissimo chiuderlo so. Sir... gli richiamo finchè non mi mandano subito no beh penso che adesso non mi dicono più niente di bello voglio vedere ste pillola sì infatti stavo pensando anch'io ah aspetta 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 ho capito ok è il cibo si l'ho messo nella tazza e gli ero da lei voglio vedere cosa succede se mi ero da lei la tazza con le pilloline magiche e comunque sto uomo è inutile anche se sa che il tizio arriva con il coltello coso allora chiuder la cosa non serve a niente adesso io voglio capire c'è la polaroid voglio prendere la polaroid voglio mettere la roba su metti su piatto eh dai la polaroid la polaroid ha la guai hey look at this wow that was like 8 years ago i look so young quindi quella polaroid serve qualcosa di sicuro spegnere le luci sai cosa hey i'm reading over here will you turn the light back on no no real nice intercetto la intercetto prima che i'm living the same evening over and over mmm si lo so infatti like i haven't figured out how to but for example i go back to the what he's beating you up is he's holly i'll get it no i'm with the police turn around please what me yes you hands behind your back let's go hold still hey you're hurting me not now no what is going on help will you help me help help jade man is are you hands behind your back please don't move i don't know this is a mistake no 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 i i don't know for don't handcuff me we can talk this out No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no I put you on it, and I won't tell anyone, I swear, I swear. You find it? I did. Okay, now when you let me go, what are you? Easy now, deep breath in. No, no! No, 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 it'll restart, it has to restart, I can't do this, it's not, it's not really like losing you, alright, and the baby, fuck, it's gonna restart, I know it will, it has to. Ok, provo il consiglio che mi ha dato, Manuel. Provo a vedere se mettendo la roba nel, nella vent, mi dice qualcosa, no, ops, ho sbagliato, ho fatto, ok, voglio provare se la metto nella vent, cosa succede? Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, miましょう, asens сказать, ma provo i det, Ok, il cosa non posso metterlo, ma posso mettere il telefono O forse no, perché si illumina e quindi lo fa vedere No, vabbè Lasciamo così E metti la venti Ok No, voglio chiudere No Voglio vedere dove l'ha preso No, ne ho Ah, ok Devo nascondere il coso Ok 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 Bye Devo ancora capire a che causa servono le pillole Devo ancora capire De post Devo ancora capire No No Non C'è una domanda divertente Un domanda divertente Ok Dici di chiedergli del I'm living this Yeah Great Ok Vai di là Prendi sto cacchio di No no Prendi il coso Certe volte Ah Fai gli vedere questo Fai gli vedere il present Ok Questo l'abbiamo sentito Certo 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 Di Certo 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 No, aspetta, come l'altro, io posso mettere su questo, ma non so cosa serva, ma ha detto che era sotto il lavandino, ok, lei era thirsty. No, così stoppo, devo capire come cacchio, ma se io uso la mag, scusatemi, eh, e gli metto, sì, ma l'orologio non riesco a prenderlo, ha detto che era sotto l'armadietto delle pillole. Beviti una tazza, no, non posso bermela, io, dà la alla moglie. No, perché l'ha già bevuta, mi sa che dovremmo cominciare, ecco. No, non posso, non mi muovere. Ok, questa volta però la moglie è andata a santa. Eh, infatti sotto il coso del mediceo, però non mi dava nessuna interruzione. Come on out, I just want to talk. Please, open the door. Enough! Man, you're under arrest. Put your hands behind your head. E sono dietro. No. No, funziona perché... Ok. Ah no, però ho capito. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. All'inizio, lui fa così e gli toglie il coltello, poi dopo lo riesce a coltellare ma gli dà il pugno, adesso riesce a schivare il pugno ma non si schiva la testa. Ogni volta riesce a schivarlo, quindi dobbiamo fare un'altra volta, lui capisce come schivarlo tre volte e possiamo colpirlo. Allora, prima cosa... Prendi queste cose qua. Prendi le due tazze. Voglio mettergli il sonnino per vedere cosa succede. Vai qui. Chiudi la porta. Metti la tazza a prendere l'acqua. Metti il medicino nella tazza. E lei non lo vede. Apri. Ecco. Eccolo. Eccolo qua. Eccolo qua. Ok, così prende le medicine del sonniferetto. No, scusa. Metti il mouse nella parte basse. Cacchio. Vabbè. Knife. Ma si mette il knife sul fuoco? No. Ok, lei va a dormire. Noi qui chiudiamo tutte le luci. Blocchiamo la porta. No, ma basta aprire sta porta! Devi bloccarla! Lock. Oh, mamma mia. Fake candle, le spegniamo. Allora. Il gioco ci dice che non possiamo chiamare la polizia perché la polizia arriva in 15 minuti e dopo 12 minuti questo si resetta, quindi la polizia non posso. Ora aspettiamo. E voglio vedere cosa succede quando arriva il cop ed è tutto spento, quindi vede che c'è tutto spento. Polizia, apri. Come on. I know you're home. Open the door. I have a warrant. Open up. I have a warrant. I have a warrant. Open the door now or I'll kick it down. Voglio vedere cosa succede quando entra e non vede nessuno tutto buio. Ok. La mia strategia era furba. Fui riuscito a capire. Come on. Police. Come on out. ذا. Weah! Weah! Non capire cosa succede Ok, mi arresta Cosa vuoi che vuoi la guardia? Perché lo so, dove è? Cosa vuoi pensi che ancora ha la guardia? E' questa cosa vale un po' molto Se fosse così, noi sappiamo, dove è? Non so nulla cosa su una guardia Certamente non, dove è? Non so nulla cosa su una guardia Spero che non so nulla cosa su una guardia Sì, allora credo che non ho bisogno di te Sono senza pazienza Ho un po' di te No, sono morto Spero che ho capito una cosa Secondo me quando lui va in camera Io cosa faccio? Entra la porta, chiudo la porta Vado in bagno e vado nella doccia Perché la doccia è sicura Proviamo così Allora, prendiamo tutte le mag di nuovo Secondo me devo fare così Perché lui dopo un po' dice Ah, vado dentro No, donna Non Non Ok Vado a parlare dopo Voglio provare in questo mondo qua Guarda chi ha due punti E ricorda che Si ricorda che Se io ho entrato qua Quando lui l'ho lasciata aperta E io mi metto nella doccia Lui non sa Che so Ma Non capisco che cosa serve la toaletta ancora No, devo Ho sbagliato Chiudi la tua Non so ancora cosa serve la toaletta Sì Guarda cosa Se c'è la grata Allora, metti le pilloline Plupplup Pilloline Messe Ok, mia moglie si era La grata La grata c'è Ma non c'è niente nella grata Questa Questa Niente Questa 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 Cosa Questa Si, grazie Stavo Cosa Eh, lo so, quella nel bagno. No, perché non lavava il coltello? Entra dentro? Facciamolo entrare e prendiamo via questo fake candle e noi ci mettiamo nella door. Quando lui va in camera, noi usciamo ed entriamo dentro il bagno. Ok. Facciamo così. Ah, eravamo a un minuto. Vediamo cosa succede. Come on, I know you're home. Open the door. Open the door. E' qualcuno a casa? Hello? Polizia? Come on out. Ecco, vedi, lui va a controllare dietro la doccia adesso, secondo me. No, 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 no. Ok. Ok. Ecco, poi su della tristata. Ah, Jesus, fuck, fuck, fuck. Oh, I'm okay, I'm okay, fuck. Fuck. How do I get her to say I want to watch us? What do I get her to say I want to watch us? Hmm? What are you doing? Is it broken? Man, is it like super gross in there? Best night ever. Guess who made dessert? Let me know who you are. Yeah, I will. I don't have enough space to drop it. Hey, I'm... Hey, I'm... Eh, ok, vado nell'armadio delle pillole Prendo le pillole Però non c'è nessuna mente Poi lei, ecco, sta andando a bere Quindi non posso più dargli la medicina Metti il mouse in basso Ma dai, ma era complicato da fare Non potremmo mettere un posto migliore Non si vede So this is her father's watch Must be worth a lot of money My father-in-law's old pocket watch You were such an asshole sometimes Oh, fuck me, are you serious? Sì, 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 sì Ok, ho capito cosa intende Vico, metti il mouse in basso Be out in a second Arrivederci, vai a dormire Ci vediamo poi domani Se vieni in live Adesso cerco di capire cosa devo fare qui Ok Ops Ah Mi dice anche quanti minuti ci sono Figata Ok Ok Qui vediamo? Ok No, 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 no. What the fuck are you talking about? I need you to tell me the truth. Where is this coming from? Listen. I'm sorry. I'm living the same ten minutes over and over and over again. So look, I'll prove it to you. Are you fucking kidding me? Let's see. I can't believe all of this. Ti faccio vedere io cosa avevi Tu, donna Questo Ti faccio vedere Oh, comunque... God... Hey, I... I know that this is hard, but please... I need to know. Yeah. Yeah. Uh... Christmas Eve, he had caught me trying to sneak out, and I was so mad. I just poked at him, and prodded at him, and he... hit me. Jesus Christ. Anyway, I saw red, of course, and... he always had guns around. I... I grabbed one, and I shot him, and I just ran. Made it here on New Year's Eve. That Polaroid on the fridge was actually taken an hour after I got here. I was gonna turn myself in, but it was a new year. A few weeks later, you showed up, and... and things were almost good before it all ended today. I killed my father. Never thought I'd say that out loud. And now you know. Please, talk to me. I don't care. It doesn't matter. If we gave everything, all of it, all that matters, is that we have each other. That's it. Yeah. Please, open up. But what now? Are... So, then... So, then... So, then... He's who's talking? Yeah. Why'd you do it? Come on! I know you're home. Open the door. I never meant to hurt anyone. I have a warrant. Open up! Open the door now, or I'll kick it down! I have to think of what I'm going to do. I'm going to get into it without telling me anything. Your last part... I just need some problem myself. Ma'am? Come on out. What? I just want to talk. Please. Oh, uh, sure. Open the door. One second. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Let's go. Ouch. I'm right. I'm right. Let's... Get this... Ow! Don't fucking move. Help me. We can help me. Hands behind your back, please. Don't move. My wrists. I don't know. This is a mis... Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. You're under arrest for your father's murder eight years ago. No. 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 Please, no. This can't be real. This can't be... Shut up! Look, I... I don't know. No. This is honestly more settled. Bye. No! No! Please, don't. Please, don't. Oh! Oh my God! Pistola? No! No! Help! Please! Somebody help! Che cacchia, ma sto uomo fa cagare questo uomo! Ok, ok, quindi questo mi fa capire che non posso combatterlo. Che c'è da ora? I'll head up. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. No! No! Please, don't. Stop! Stop! Oh my God! Help! Somebody help! Again? Oh, for fuck's sake. Dammit. And we're back. Oh my God! Oh, god. Oh my God! Oh, so, I'm gonna restare. Oh, my God!